Trive è il passeggino di Nuna più compatto e leggero, ideale per la vita metropolitana e per i viaggi. Trive è il passeggino urbano che soddisfa le esigenze delle mamme. È leggero, pesa solo 8,8 kg e compatto, misura solo 50 cm di larghezza. La pedanina poggia piedi è regolabile, lo schienale reclina completamente. Si può trasformare in travel system attraverso la navicella e gli ovetti della serie PIPA, PIPA NEXT, ARRA e PIPA LIGHT LX. Le ruote sono ammortizzate in gomma, all'interno sono riempite di schiuma per affrontare qualsiasi tipo di terreno. La seduta è ampia e reversibile a una portata massima pari a 22 kg di peso. L'inserto al suo interno è in lana merinos e fibra di liocel ed è removibile. Si può chiudere in entrambi i sensi di marcia con una sola mano. È dotato di parapioggia e di una coppia di adattatori tradizionali per ovetto e navicella. Inoltre troviamo un secondo adattatore ad anello solo per ovetto. La navicella è acquistabile separatamente e pesa solo 2,8 kg. È sfoderabile e traspirante, è dotata di visiera parapioggia e parasole. Si sgancia con una sola mano attraverso i pulsanti memory. Incluso nel passeggino uno speciale adattatore ad anello per seggiolino auto che si chiude insieme al telaio senza doverlo rimuovere. In caso di utilizzo con ARRA, l'ovetto reclinabile, non è possibile utilizzare questo adattatore ad anello ma gli adattatori tradizionali. Nuna TRIV leggero e pratico, incredibilmente confortevole e prestante.